Buongiorno! Buongiorno amore. Sto cascando e io sono ancora qua e non ho fatturito. No, ancora niente. Supererò le 40 settimane. No, ancora sono a 38 però... Però ci hanno detto che più o meno da adesso, ogni momento, anche adesso... No, scherzo. Ogni momento è quello buono, quindi ragazzi aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. Per la pargoletta. Non vediamo l'ora. Pargoletta, ragazze. Infatti sto iniziando ad avere un po' d'ansia. Comunque io vi ho promesso di farvi vedere, per il disastro di farvi vedere le borse. Le borse, sia la mia che della bambina, ma non so per quale ragione. Io questi giorni faccio tutto tranne che ultimare le borse. C'è come se rivandassi l'idea che devo andare a partorire. E allora amici miei, avete capito? Manca pochissimo al parto, ogni giorno è buono, quindi inizia il countdown. Noi con Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga seguiremo questa coppia fino alla nascita di Baby Z. Ciao!